Allora, mo' noi siamo qui per fare un pronostico veramente veramente ostico Comunque, quello di Nudinese l'ho sbagliato Però quello della Salernitana ce l'ho azzeccato per il pareggio Quindi un pronostico azzeccato per me Quello dell'Empoli non me lo sarei mai immaginato che vinceva Complimenti sempre a quest'Empoli che mostra sempre di essere una squadra buona Da quando hanno cambiato allenatore, no? Da Anderazzoli a questo qua Zanetti è molto meglio, per me Zanetti è molto meglio da Anderazzoli Fa lavorare bene, strilla quando fanno gli errori E' un po' la Murigno, poi il bestemmio, non so se lo vedete, lasciate perdere, vabbè, dettagli Mo' mi do cazzeccato il progresso dell'Atalanta Ho sperperato un po' le formazioni Sapete bene che non c'è che farà scegliere, sta al posto suo, gioca a Elmas L'Atalanta sempre con la solita difesa, Scalvini, Ogoli, De Miral Ho visto Pasalic come centrocampista centrale, che roba Ma fatemi sapere, mi sembra che Quell'altro come si chiama? No Kupmeners Deron sta infortunato, mi sembra che si Ecco perché è già capace di scelare Magari Mo lo cambia il gas, però Comunque, io devo dirvi l'Atalanta è una buona squadra Che comunque, le ultime partite non è che abbiamo fatto partite tremente Né contro la Lazio, né contro qualche altra squadra Non è facile Non è facile, non è facile Però, io mi affido al mio jolly Pareggio non 1-1, non 2-2, 0-0 Pareggio a reti inviolate Io ci provo, vediamo se ciò gioco Ciao belli, provate anche a farlo voi post Grazie a tutti